... Team Orica Green Edge, sponsoro Scott, sponsoro anche quest'anno e lo scorso anno quando la squadra forniva alla casa statunitense e forniva al team australiano il modello Foil. Questa è una bicicletta nuova, una bicicletta 2014, perché le forme del telaio, in particolare del cubo Regisella, si sembrano diverse rispetto sia a quelle della Foil sia rispetto a quelle della Addict, i due modelli top di gamma di Scott. Probabilmente la bicicletta è in evoluzione dei due modelli, sarà un modello in gamma 2014 e che i corridori stanno testando proprio qui alle classiche del nord. Il tubo di sella della Foil era con una forma di roccia, questo invece no, è una sezione tradizionale, tonda con Regisella da 27,2. Anche il tubo di sterzo è praticamente diverso, è più snello, ha una forma più schiacciata, probabilmente alle modifiche di forma sono corrisposte anche alle modifiche strutturali nella fibra del carbone. Di questo però ovviamente ancora non sappiamo nulla, ne sapremo di più sicuramente nei prossimi mesi. Ecco, qui vediamo nel dettaglio la differenza tra i due modelli, in primo piano la Foil di Dobbridge, invece sullo sfondo la nuova bicicletta che in questo caso è quella del belga Toplayer.